The Kindy Hand è un'opera realizzata dall'artista giapponese Chiaro Shiota in occasione della Biennale dell'Arte di Venezia del 2015. Questa imponente installazione dal grande impatto estetico e dalla forte valenza simbolica è composta da due vecchie barche di legno sulle quali si riversa un groviglio intricatissimo di fili rossi. 180.000 chiavi costellano il rosso intenso di questa trama densa, sospesa in un'atmosfera di intimità e silenzio. Come spiega l'artista, custodire una chiave nella propria mano significa avere una possibilità, e in questo senso la chiave simboleggia il futuro, in quanto strumento che apre un passaggio verso nuove direzioni e nuove opportunità. Per realizzare questo progetto Shiota ha raccolto chiavi provenienti da tutto il mondo, che le sono state donate, talvolta insieme ad aneddoti e storie di vita quotidiana. Ogni chiave è quindi custodia di un ricordo, di un segreto, di un frammento di memoria appartenente alla persona che l'ha posseduta, che l'artista meticolosamente e pazientemente intrecciato in un'unica narrazione di ricordi stratificati.